Vogliamo eseguire questa sottrazione tra polinomi. Chiaramente, per prima cosa, dovremo togliere le parentesi. La prima parentesi, avendo davanti il più, non cambia niente, quindi scriveremo meno 4x più 5 noni x alla seconda più x alla terza. Il secondo polinomio ha davanti la parentesi il meno. Quel meno cambia tutti i segni del polinomio, quindi avremo meno 5 quarti x alla seconda meno 2 ventunesimi x. Ora andremo a cercare i monomi simili. Quelli che hanno come parte letterale x sono meno 4 terzi x e meno 2 ventunesimi x, quindi scriveremo meno 4 terzi x meno 2 ventunesimi. x. Poi, quelli con parte letterale x alla seconda sono 5 noni più 5 noni x alla seconda meno 5 quarti x alla seconda. Quindi scriveremo più 5 noni meno 5 quarti x alla seconda. con parte letterale x alla terza c'è solo più x alla terza, quindi riscriveremo più x alla terza. Andiamo a fare i nostri calcoli. Minimo comune multiplo fra 3 e 21 è 21, quindi avremo meno 21 diviso 3, 7 per 4 è 28, meno 2 x. Minimo comune multiplo fra 9 e 4 è 36, quindi avremo 5 per 4, 20, meno 9 per 5, 45, x alla seconda più x alla terza. Andremo a fare i nostri calcoli ed avremo meno 30 ventunesimi x più, anzi meno, scusate, 25 trentaseiesimi x alla seconda più x alla terza. Quindi il risultato finale sarà meno 10 settimi x meno 25 trentaseiesimi x alla seconda più x alla terza.